Come di consueto a fine anno andiamo ad incontrare i sindaci del nostro territorio per fare un po' il punto della situazione e per gli auguri per un 2019 che sia davvero bello ed effervescente. Ovviamente non poteva mancare il sindaco di Eboli Massimo Cagliello che questa mattina c'è anche offerto il caffè quindi noi chiaramente da donna del sud lo bevo con piacere. Io già l'ho bevuto. Tu già l'hai bevuto, lo berrò io quando inizierai a parlare perché conosciamo la tua dialettica. Allora telefoni che chiamano, che cercano, però insomma siamo del resto in un momento importante, a fine anno tantissime persone chiamano e cercano il sindaco. Allora partiamo un po' invece dalla cosa che salta agli occhi venendo in città quest'anno e devo ammettere, nonostante io sia sempre molto critica e lo sai bene, che le luci natalizie quest'anno, devo dire, veramente il sindaco si è superato. Bellissime, veramente molto belle, non so se sono le più belle dopo Salerno eccetera, insomma noi non facciamo di questo tipo di confronti, però veramente molto belle. Una bella idea, insomma state crescendo in questo senso. Sì, credo che è una crescita costante annuale, siamo partiti dal primo anno e abbiamo voluto far rivivere il Natale ad Eboli e innanzitutto ne darlo come forma di supporto ai nostri cittadini ebolitani, cioè ne fa sentire i cittadini orgogliosi della propria città e di passare il Natale ad Eboli per i propri bambini, per le proprie famiglie e abbiamo pensato a tante cose. Quest'anno credo davvero, non dire ci siamo superati, abbiamo fatto un passino avanti rispetto all'anno scorso e l'anno prossimo ne faremo ancora un altro, perché quest'anno abbiamo voluto cercare di coinvolgere l'intera città, quasi tutta la città comprese le periferie, abbiamo voluto individuare nell'emblema del cuore la passione, l'amore per la propria città, che abbiamo appunto fatto in modo che Eboli venisse riempita di tutti questi cuori e contemporaneamente abbiamo voluto dare da San Bartolomeo con la piazza qualcosa di incredibilmente bello, affascinante, entusiasmante, io ogni volta che lo vedo mi commuovo, anche io devo dirti la verità. Del resto anche la serata di inaugurazione nonostante non fosse una serata bellissima, tu aveva piovuto tutto il giorno. Ti ricordi bene, ma anche la serata della settimana prima a San Bartolomeo c'era tanta gente, la serata dell'otto inaspettatamente c'erano migliaia e migliaia di persone, ricordo che fino a mezzanotte la città era invasa di persone, questo vuol dire che ormai stiamo crescendo molto, stiamo dando ai nostri cittadini l'orgoglio di sentirsi ebolitani, però devo dire che stiamo avendo molti riscontri fuori Eboli, al punto che già questo fine settimana abbiamo prenotato già 4-5 Pullman, abbiamo delle prenotazioni di camperisti nel periodo di Capodanno, stiamo avendo visite, prenotazioni, come dire, c'è interesse e questo ci fa piacere. A proposito di cuori, insomma c'è un animo romantico in Cariello perché abbiamo visto cuori anche sui manifesti a un certo punto. Eh sì, l'abbiamo voluto abbinare perché abbiamo abbinato il periodo natalizio con la campagna di sensibilizzazione della raccolta differenziata e abbiamo voluto riprendere un format di curiosità del cuore, poi qualcuno l'ha abbinato a Natale, bene anche che sia stato così. Ora siamo partiti con questa bella campagna di sensibilizzazione, però dopo Natale partiremo in modo capillare su tutto il territorio, voglio ricordare che da quando ci siamo insediati siamo aumentati di ben 9 punti percentuali, anzi 11 punti percentuali di raccolta differenziata, da 46% al 57% ed è un risultato importante. L'obiettivo che ci poniamo nel 2019-2020 è quello di arrivare al 65%. Non è un obiettivo facile, ma ora che l'abbiamo estesa su tutti i territori credo che sia forse una possibilità che possiamo portare a termine, logicamente con il supporto dei cittadini perché qui ci vuole la vera cittadinanza attiva. Come l'abbiamo avuto nel periodo di Natale, non posso non ringraziare uno su tutti Raffaele Contaldo e tutta la sua famiglia perché a di là di quello che poi il Comune ha messo di suo economicamente c'è anche di suo da parte della famiglia Contaldo in modo particolare da parte di Raffaele e della figlia di Maria Stella. Quindi davvero li voglio ringraziare pubblicamente perché hanno resa ancora più bella la nostra città. Verissimo. Andiamo invece su un argomento che ha fatto anche un po' discutere perché alcuni non l'avevano presa benissimo, altri invece sì, insomma comunque un po' di cose sono cambiate nell'area PIP, un'area che comunque è importantissima per il nostro territorio. Parliamo anche dello scioglimento del consorzio, quindi della liquidazione del consorzio. Insomma è una cosa che il Sindaco, devo dire, aveva annunciato già da un po', era un obiettivo che ti hai riprefissato già da tempo. È un obiettivo che ci eravamo pretissati ma condividendolo con gli imprenditori. Noi in questo stesso periodo abbiamo avviato una quindicina di decadenze, quindi nel senso di imprenditori che da oltre dieci anni avevano avuto l'assegnazione del lotto e non avevano messo neanche una pietra. Sappiamo bene che il regolamento prevede che dopo tre anni decade. Abbiamo attivato quello che doveva essere attivato prima, abbiamo dato la possibilità ad atti di investire, abbiamo nuovi lotti assegnati, abbiamo nuovi imprenditori. Stiamo facendo un ragionamento importante con il comprensorio Ebolibattipaglia, un ragionamento che tenga conto anche dell'infinanziamento e dell'intervento dell'uscita autostradale dell'ANAS, che tenga conto di un potenziamento, di un rapporto di collaborazione con il consorzio ASI di Salerno, non per entrare dentro ma per avviare un percorso di condivisione, di una pianificazione industriale che mette insieme il bipolo Ebolibattipaglia. Su questo noi ci chiediamo molto e su questo ci stiamo lavorando. A questo devo aggiungere che stiamo dando sicurezza ai nostri imprenditori e stiamo dando anche l'immagine seria di un'amministrazione comunale che crede fortemente nel rilancio industriale della città di Ebolibattipaglia. Passiamo invece alla progettazione vera e propria. Ultimamente è arrivato un comunicato stampa da cui si percepiva una certa soddisfazione per i PUA che sono stati approvati. Quindi Fontanelle, San Donato, la città sembra stia per cambiare e in meglio? La città sta cambiando. Io voglio solo ricordarlo che da quando ci siamo insediati, prima erano stati approvati, se non sbaglio, solo su due PUA, su ben 23-24 PUA. Oggi ne abbiamo approvati oltre la metà, ne sono stati realizzati due. Nel 2019 saranno realizzati altri due subambiti importanti. Abbiamo le gruadebole, abbiamo imprenditori che vogliono investire, certo non è che è la soluzione di tutti i mali, però stiamo sbloccando l'edilizia, la stiamo sbloccando consentendo anche il recupero con l'approvazione del regolamento del piano casa che sarà migliorato anche nel periodo di gennaio-febbraio con delle nuove norme che andremo ad approvare. A questo voglio aggiungere in modo particolare, abbiamo presentato il PUA pubblico a Santa Cecilia, abbiamo già presentato un progetto di pianificazione laddove non riuscissimo ad attuarlo perché il privato non è disponibile, ad intervenire per la realizzazione di un'area pubblica, di una piazza, di uffici comunali e finalmente di una chiesa degna di questo nome, in una località importante come Santa Cecilia. Abbiamo approvato il percorso di pianificazione dell'uscita di San Giovanni, dell'area di San Giovanni, stiamo lavorando molto intensamente sulle pianificazioni urbanistiche complessive, approveremo a breve in giunta il PUC, il piano urbanistico comunale, il preliminare, dopodiché procederemo con tutte le fasi successive, ma in modo particolare voglio ricordare il PUA di Fontanelle, l'ex parco Fuscovesce che è stato approvato, e quello di San Donato, dove finalmente andremo a realizzare un parco comunale, un canile comunale. A proposito di canili, volevo in qualche momento l'occasione per fare riferimento all'ordinanza contro i botti, anche quest'anno capodanno è vietato l'utilizzo di botti. Quest'anno abbiamo fatto un'ordinanza ancora migliorando rispetto a quello dello scorso anno, appunto abbiamo avuto anche un riconoscimento nazionale da parte dell'associazione, che segue in modo particolare, dell'associazione dell'Anci, che segue i comuni, quindi che mettono ordinanze nello specifico che siano attuate. Devo ringraziare il capogruppo Giuseppe Piegari, che mi ha dato una mano importante su questo, e devo dire che fino ad ora, a parte qualche caso sporadico più che altro, già oggi si avverte una riduzione enorme degli spari. Certo, non possiamo avere la capacità di poterli eliminare del tutto, così come non possiamo quindi avere una presenza su tutto il territorio, però abbiamo già proceduto e procederemo nel periodo sotto il 31, quindi a sequestro di chili e chili e quintali e quintali di botti, così come abbiamo fatto lo scorso anno. Anche perché le persone vanno man mano educate, in senso ovviamente lato, cioè capire e comprendere che magari usare altro per festeggiare può essere... Vanno educate... Ma poi è pericoloso, al di là degli animali che noi chiaramente tuteliamo... Al di là di questo che è importante, su quale comunque però vanno educate e vanno consigliate, è un'ordinanza che però tutela chi rispetta la legge, perché non possiamo impedire a tutti di venderli, Certo, però insomma c'è qualche dito in meno saltato, no? C'è qualche sicuramente dito in meno saltato, facciamo tutti gli scongiuri per il 31, ma comunque noi ce la stiamo mettendo tutta. E devo dire che rispetto al passato abbiamo una riduzione del quasi 60-70% dei botti. Poi la notte di Capodanno ci saranno, ma io che sono del paterno e che ho vissuto gli anni nel paterno e che vivo il Capodanno a casa mia, quando mi affaccio vedo che già dallo scorso anno, ma già da due anni, c'è una riduzione notevole. Non del tutto, ma c'è una riduzione. Tornando a parlare dei quartieri, che poi alla fine la vivibilità è legata al benessere dei nostri quartieri, dicevamo prima dell'intervista appunto che sono previsti degli interventi importanti un po' in tutta la città anche per quanto riguarda la pubblica illuminazione, che è una cosa che sembra semplice da fare. È importante e stiamo pianificando con la società che si è giudicata la gara e che abbiamo trovato, con una pianificazione di estensione della pubblica illuminazione, partiranno degli interventi a macchia di Leopardola, dove ci sono le tante zone buie della città di Ebol, estenderemo l'illuminazione da quella gialla a quella bianca, tranne la parte del centro antico, faremo un intervento sostanziale su tutta la fascia litoranea, quindi andremo a cambiare tutte e 250 le lampade, quindi avremo una pianificazione omogenea e una manutenzione affinché tutta la fascia costiere sarà di nuovo tutta illuminata. Non possiamo non tener conto degli interventi che stiamo predisponendo, c'è la gara in corsa per Boscariello, c'è il completamento del Prato, di San Vito a Sele, di Lampione, di Grataglie e di tante altre aree sulle quali stiamo lavorando, partirà la riqualificazione di Piazza Epitafio, abbiamo avuto un finanziamento importante sulla 416 che andrà a riqualificare tutto l'elettratto stradale che va da Cioffi fino alla Versana, cioè davvero stiamo lavorando in modo intensamente, è uscito il bando delle due rotatorie a Rione Pescara che andrà a riqualificare anche una parte importante della Rione Pescara, il Morinello, Tavolillo, abbiamo recuperato delle economie che saranno investite su Tavolillo e su Molinello, quindi andremo a migliorare gli ulteriori interventi che abbiamo realizzato. Quindi stiamo facendo anche importanti percorsi di pianificazione, una sul tutto, oltre a chiudere in modo definitivo la questione Pezzullo che mi auguro davvero la possiamo chiudere nel 2019, ma abbiamo un'idea che è una sorpresa che lo dico in anteprima, forse sarà la prima a saperlo, stiamo pianificando con gli ACP il recupero di cosiddetto borgo Fortapascio, stiamo facendo un percorso di pianificazione, di delocalizzazione di quell'area e di reinvestimento su quella stessa area. Abbiamo avviato le procedure, certo, però c'è un'idea chiara che questa amministrazione è quella di riqualificare l'intera città e partiremo in modo particolare da due momenti storici che sono il rione Pescara e il Paterno, che sono le due aree che sono sempre state abbandonate e degradate sulle quali noi investiremo di più nei prossimi anni. Diciamo anche di Campolongo, è una zona per non importante, ma magari... Abbiamo approvato in giunta una pianificazione urbanistica di tutta la fascia costiera, siamo ora nel tavolo del master plan con il comune di Salerno, Ponte Cagnano, Battipaglia, Acropoli e Capaccio e qui lì abbiamo avviato un percorso importante di collaborazione e stiamo attendendo ora l'ultima convocazione perché la regione Campania, non posso non dirlo, ha avviato un percorso importante diciamo di tavoli tecnici dove il comune sta partecipando, quindi siamo ottimisti anche su questo. Io vorrei anche però dire che da quando ci siamo insediati ad oggi abbiamo anche migliorato le casse del comune di Eboli, abbiamo avviato una politica tributaria importante, abbiamo ultimamente approvato anche l'estinzione di ben otto muti in un'anticipazione, cosa mai successo, quindi facendo risparmiare altri 550 mila euro ai cittadini ebolitani, abbiamo ridotto le tasse sui rifiuti di 6 punti percentuali, anche se nel 2019 c'è il rischio di un aumento dovuto allo stile di Battipaglia, però su questo stiamo già lavorando per non fare non solo aumento ma per avviare un'ulteriore riduzione con una nuova gara che andremo a realizzare sulla raccolta differenziata. A proposito di Battipaglia, avete trovato un accordo con la sindaca o sono ancora scintille? No, ma non ci sono scintille, le scintille ci sono quando io scatto quando mi toccano la mia città, io sono orgoglioso della mia città, la difendo, Eboli e mia la difendo e non è il motto mio ma è di San Vito e guai a chi tocca la città di Eboli. Quindi per quanto mi riguarda ho solo difeso la mia città e la difenderò sempre contro chiunque si permette di invadere il nostro territorio nel senso buono del termine senza tener conto del rispetto del loro istituzionale. Con Cecilia ci siamo chiariti, abbiamo avviato dei rapporti importanti di collaborazione, stiamo lavorando su una collaborazione sulla gestione dei parcheggi giù a mare, c'è disponibilità dal comune di Battipaglio che ho avvertito, stiamo lavorando sulla pianificazione industriale, sulla questione ambientale, mi auguro che si tenga conto del rispetto dei ruoli istituzionali, della volontà che abbiamo dalla parte di Eboli di non scaricare su altri, ma non possiamo subire gli scarichi da parte di altri. Quindi ci siamo chiariti, però era giusto e doveroso chiarire la nostra posizione e chiarire il fatto che ad Eboli sono gli ebolitani che decidono e non gli altri. Abbiamo parlato di decoro urbano, abbiamo parlato di riqualificazione, una delle problematiche che comunque ancora attanaglia la nostra città come altre città del comprensorio è la questione legalità. Microcriminalità, insomma, ci stiamo muovendo per cercare di in qualche modo di sopperire alla problematica, anche se devo dire che forse negli ultimi tempi, le ultime settimane sembra che siamo un pochino più tranquilli. Mai dirlo però. Mai dirlo, innanzitutto per scaramanzia, ma il sottoscritto si è fatto carico di una serie di missive formali e informali al prefetto, al comando dei carabinieri di Eboli, dove devo dire da Geminale al comando provinciale abbiamo avuto piena e totale disponibilità, abbiamo avuto già dei risultati importanti, c'è ancora qualche mina vagante, ma devo dire rispetto a qualche mese fa c'è maggiore tra virgolette, sempre facendo tutti gli scongiuri, tranquillità, abbiamo avuto un finanziamento importante sulla legalità da parte del suo finanziamento sullo sportello antiracket, quindi partiremo anche nel 2019 con importanti percorsi di sicurezza, abbiamo chiesto un potenziamento delle forze dell'ordine della nostra città di quello di cui abbiamo bisogno, stiamo potenziando ancora di più la videosorveglianza, stiamo lavorando su una pianificazione di sicurezza che mette in rete i comuni limitrofi e quindi credo che questi sono risultati importanti, però bisogna stare molto attenti. Stiamo facendo con il delegato della sicurezza Giuseppe Labbroc dei monitoraggi territoriali, il censimento sta continuando in modo riservato, stiamo procedendo con la cancellazione della nagra, stiamo procedendo con le denunce, lo facciamo con la riservatezza e con la previsi che è dovuto che ci sia perché è così che si deve intervenire. Giunta, è stata cambiata ormai da non so quanti sei mesi, non ricordo bene, circa, puoi fare un bilancio su questa giunta? Ma io il bilancio è positivo sia dei nuovi ma anche degli ex assessori, sono stati dei cambi dovuti anche al raggiungimento di determinati obiettivi, anche dovuti a degli impegni personali, però devo dire che sono soddisfatto della mia giunta, sono soddisfatto della mia maggioranza, devo dire che si sta creando una bella sinergia, una bella empatia ancora una volta, sia nel Consiglio Comunale, ben diretto e coordinato dal Presidente Fausto Vecchio, sia nella mia giunta, che sono affiancato da assessori laboriosi, operativi, devo dire che i consiglieri comunali stanno seguendo in modo specifico anche i singoli settori, sono molto contento perché oggi vedo una partecipazione ancora più attiva da parte dei consiglieri comunali che si fanno carico delle singole deliche, dei singoli problemi e stiamo avendo risultati importanti, certo Eboli è una città estesa, abbiamo tante problematiche, però se ti devo dire il riscontro che il sottoscritto ha nella città e fuori Eboli è un riscontro positivo, ma non ci culliamo perché le critiche ci sono sempre, bisogna sempre trovare le soluzioni, a partire dal problema del commercio, il giorno 30 faremo una giornata importante sul commercio, abbiamo incontrato i commercianti, c'è stato il problema dei parcheggi che è stato enfatizzato in modo negativo da altri e voglio sempre ricordare che qui si paga molto di meno di quanto si paga nei comuni limitrofi, abbiamo dato delle disponibilità ai residenti che in altri comuni non esistono perché un abbonamento che fa un residente a Eboli non lo fa solo intorno alla sua abitazione, ma l'abbonamento vale per tutta la città, cosa che non succede in nessuna altra parte del paese, della provincia di Saleno. Ma lo dico perché io credo che noi dobbiamo migliorare la qualità dei nostri cittadini, ma in migliorare la qualità dobbiamo migliorare i servizi, i servizi si migliorano con i parcheggi, con la viabilità, con la manutenzione, partirà un piano di manutenzione capillare su tutta la città di Eboli a partire dal 2019, con il percorso anche del decoro urbano. Andate oggi in piazza della Repubblica intorno alla città di Eboli e vi rendete conto del decoro urbano che abbiamo dato alla nostra città, a partire dalla piazza, a partire da una piazza che è mantenuta in un modo che davvero è quello solo l'inizio di un percorso di decoro urbano che faremo su tutta la città di Eboli, alla riqualificazione dei quartieri periferici, citato prima la riqualificazione di piazza Epitaffio, come non poter non tener conto anche di una campagna di sensibilizzazione che porta dalla raccolta differenziata ad una città sempre più pulita, nonostante siamo ancora alla vecchia gara e stiamo lavorando sulla nuova gara perché abbiamo dovuto attenendoci quindi alle note dell'ANAC annullare quella precedente e stiamo rifacendo la nuova gara, devo dire anche qui abbiamo una città pulita, quando vengono i turisti e per fortuna stanno venendo e fanno il giro, ultimamente è venuta una comitiva di siciliani nel nostro centro antico, ricordo ancora, oltre a complimentarsi per le luminarie, ci hanno fatto i complimenti di come teniamo pulita il centro antico di Eboli, certo c'è ancora un lavoro in mane da fare, ma non possiamo non vedere i miglioramenti che stiamo dando alla nostra città e sono sotto gli occhi di tutti, poi ci sta il criticone di turno, l'opposizione, una parte dell'opposizione, perché devo dire una parte anche costruttiva, una parte distruttiva, fatta di denunce e quant'altro, ognuno faccia il suo percorso, saranno i cittadini a valutare, io credo che il lavoro che abbiamo messo in campo è un lavoro importante, in mane, mai visto nella storia di Eboli, tutto quello che abbiamo creato e generato, i frutti stanno arrivando e arriveranno sicuramente. Un 2018 particolare per il sindaco Massimo Cariello, anzi non per il sindaco ma per l'uomo Massimo Cariello, fatto appunto di un momento importante, il coronamento di un amore insomma con Esther, quindi il matrimonio, e però insomma con delle perdite forti, fortissime. Sì, un 2018 particolare che ricorderò per tutta la vita, nel bene e nel male, nel bene perché non posso non ricordare l'8 agosto del 2018, che poi una data ha deciso tutta da Esther, l'infinito, ha fatto lei, ah giusto, mi ha incastrato per tutta la vita, l'infinito, senza parte la battuta, e il coronamento dopo quasi nove anni, anzi nove anni di convivenza e di rapporto, quindi poi abbiamo una famiglia eccezionale, sono un fortunato, abbiamo due bambine, c'è Adele, che è come se fosse mia figlia, e c'è Alessandra Maria, che poi è diventata la fonte della mia vita, la luce dei miei occhi, ma questo devo dire che sono un fortunato perché ho trovato in Esther la donna eccezionale, io credo che un uomo riesce ad andare avanti, ad avere la forza di fare tutto quello che io faccio, perché io sono uno stacanovista, e tu mi conosci bene, con tutti i pro e i contro che posso avere, ma se non avessi a mio fianco una donna così intelligente, così riservata, così a tempo stesso anche matura, non credo che potevo portare a compimento tutto quello che è il mio impegno che do alla città di Ebrio, quindi se oggi do tutto questo alla città di Ebrio, lo do perché ho alle mie spalle, anzi al mio fianco, una donna eccezionale, e poi ho delle figlie uniche, a questo poi sono fortunato, perché ho una famiglia molto presente, nonostante la lontananza di mio fratello che a me da 5 anni vive in Svizzera, ho un legame unico con mio fratello Pasquale, con i miei 4 nipoti, con mia cognata Paola, con una famiglia, anche lei, mio fratello fortunato perché ha trovato una famiglia molto unita, e attrettanto fortunato lo sono stato io che ho trovato un'attrettanta famiglia attrettanto unita, molto presente, perché ho due suoceri, ogni presenti, non fanno mancare mai nulla in tutti i sensi, dal punto di vista formale e sostanzialo, con mio padre che comunque, nonostante la sua età, anche quest'anno, perché poi mio padre ha avuto un importante intervento al cuore e è andato tutto bene, poi c'è stata la perdita di mia madre che rappresenta l'universo per me in tutti i sensi, per me e mio fratello, quello che mi ha dato mia madre è come sono, l'abbiamo scritto anche nel messaggio che abbiamo voluto mettere sulla tomba, quindi io e mio fratello siamo stati fortunati di avere dei genitori eccezionali, ma ho una mamma unica in assoluto, poi purtroppo proprio il giorno di Natale ho perso mia nonna, 98 anni, una nonna sveglia, iperattiva e che ci ha dato anche lei tantissimo, quindi davvero ricordo i momenti belli e brutti, però lasciano il segno nella tua vita, fanno parte della vita e la cosa più bella che però io, che mia figlia Alessandro ogni domenica vuole andare al cimitero a salutare nonna Pupetta, nonno Raffaele che è il nonno che pure, il nonno Raffaele che abbiamo perso che sarebbe il nonno di Esther è un'altra persona molto presente nella nostra vita e vive con questo distacco, lo vive con una bambina che crede nella reincarnazione o comunque che c'è un al di là come i sottoscritti e questo è bello perché mia figlia sa bene che mia mamma sta in cielo e lo fa con quell'entusiasmo e quel sorriso quando vado sulla doma che mi dà ancora quindi non la tristezza è un approccio in ostacolare lo fa come vuole prendere i fiori la pianta ed è bello perché viviamo questo momento quando andiamo al cimitero non come tristezza ma come gioia ed è una gioia che lei mi trasferisce quindi io ho una figlia talmente viva dentro di sé sensibile io sfrotto essere che dico che è una cariello ma nel senso che è iperattiva come me è solare sorridente entusiasta della vita e quindi questa però la fortuna è di una mamma eccezionale assolutamente non ti puoi prendere tutti i meriti comunque fanno parte della vita io però di mia mamma ricordo le sofferenze che lei ha vissuto in questi quasi dieci anni e penso alle tante persone che hanno un genitore una persona un fratello in casa che vive nella sofferenza cerchiamo di stargli vicino quando più possibile perché poi dopo ci rendiamo conto del distacco io ci ho provato spero di esserci riuscito però che dire mi ritengo comunque un uomo fortunato 2019 invece torniamo al sindaco 2019 ci sono dei progetti dei propositi ci facciamo un nodo al fazzoletto così a fine 2019 ricordiamo che poi a fine 2019 saremo a sei mesi dalle amministrazioni guarda io sono scaramantico perché lo stiamo dicendo da un anno e ancora non ci siamo riusciti per alcuni cavilli tecnici ma io mi auguro che il 2019 sia l'anno della ZTL nel centro antico non è facile perché la ZTL ha tanti pro e tanti condi ma è una nostra volontà politica forte e un rischio che vogliamo correre perché molti mi dicono ma ti conviene farlo l'ultimo anno io credo che invece noi dobbiamo farlo perché dobbiamo credere nel programma di mandato i cittadini poi se ci premeranno è bene se non ci premeranno sceglieranno un altro e chi vorranno loro ma noi crediamo che la ZTL rappresenta il rilancio di tutta la città di Epo perché va a dare una stabilità nel centro antico una regola una certezza che riguarderà anche la presenza diciamo delle tante illegalità che sono presenti e quindi un maggiore controllo delle stesse cosa che noi stiamo già scoprendo e poi sarà l'anno del rilancio con i PUC sarà l'anno del rilancio dei lavori pubblici perché partiranno molti lavori sarà l'anno del rilancio delle politiche sociali continuiamo sulle politiche culturali sarà la città dello sport perché è l'anno delle universiadi non dimentichiamoci noi lo dimentichiamo perché ormai è diventata una regola ma non dimentichiamoci quello che siamo diventati in questi anni con il Palasele con il Disseo con il Paladisseo con il Palabitch con il progetto che abbiamo presentato per i coni per il rifacimento di tutta la pista d'atletico non di una parte come è successo in passato le universiadi hanno investito su Eboli quindi faremo le universiadi a Palasele e al Disseo e poi l'anno anche dei grandi concerti ma anche l'anno dei grandi eventi sportivi noi faremo una conferenza stampa a metà gennaio ad Eboli sul Palasele perché ormai il Palasele di Eboli ha superato tutti da Roma a scendere giù e lo ha fatto perché noi abbiamo creato le condizioni affinché questa struttura sia sempre migliore la stiamo migliorando e dopo le università sarà ancora migliore allora crediamo che questi sono investimenti economici che devono servire alla città e devono diventare Eboli sempre più importanti e beh credo che questo sia un valore aggiunto che stiamo dando al nostro territorio e allora chiudiamo con gli auguri sì io auguro a tutti quanti di passare un felice anno nuovo e ne brindare pensiamo ai tanti che ne hanno bisogno questo è stato anche un mese particolare è stato il mese della solidarietà è stato il mese del lutto cittadino è stato il mese della tristezza ma nella tristezza nella commozione nella scomparsa di questi due ragazzi ho visto un grande amore un grande cuore degli ebolitani da parte dei tanti giovani e quindi lo faccio in modo particolare alle due famiglie di Francesco e di Vincenzo ricordo anche le tante persone anonime che scompaiono e ricordo anche quel signore marocchino abbandonato alle soglie della salita dell'ospedale e a cui sarà dedicato il presso di vivente insieme a Francesco e Vincenzo che si farà in questi giorni nel nostro centro antico che però sia un anno vivo un anno intenso e dico a tutti ormai è diventato un modo di ricordarlo perché nel cuore noi abbiamo voluto individuare la bontà delle persone basta con queste cattiverie ma non lo dico ai tanti o ai pochi che le fanno quotidianamente e non voglio neanche pensare a quell'opposizione cattiva che va a coprire anche gli affetti personali ma lo dico a tutti quanti se riusciamo ad essere più buoni sappiamo bene che fare bene porta sempre bene non è fare bene per poter ricevere bene fare bene e basta senza pensare di riceverlo perché fare bene ti fa stare bene e allora noi salutiamo ovviamente il sindaco Cariello ovviamente saremo presenti tutto l'anno come abbiamo fatto anche nel 2018 e prima ancora nel 2016 sperando che nel 2019 anche la SICA sia più brava la SICA sia più brava e più buona nei confronti di Massimo Cariello quindi colgo l'occasione ultimamente diciamo c'è un po' addolcita ma un po' e può essere apparenza sì 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 sicuramente e allora ovviamente sentiremo ascolteremo anche gli altri sindaci del territorio anche da parte nostra ovviamente tutta la redazione di Sud TV vi facciamo i migliori auguri di un anno buon anno a tutti di un anno